Io non me ne sono mai andato dalla mia città che amo, mi conoscono da 30 anni, sanno che ho le mani pulite, sanno che avevo idee diverse, che ho rispettato loro e loro hanno rispettato me. E credo che tutta questa faccia parte di una montatura giornalistica che non ha alcun senso. Perché io vorrei chiedere a lei, farei io una domanda. A me? Ma sì, secondo lei dopo che ho votato e sostenuto in Parlamento, con i miei voti e con i voti degli amici miei determinanti, governi Letta, Renzi e Gentiloni, scusi, ma con chi mi dovevo candidare? Con quelli che hanno cercato di mandarli a casa nel primo giorno? Questa è una cosa che dovrebbe dire a Lupi, a chi invece ha scelto l'altra parte, insomma io figuriamoci. Io non la dico a nessuno, io non la dico a nessuno, mi interessa solo dirlo agli elettori. Ho capito, era una domanda retorica, però volevo darle comunque una risposta. Allora, le faccio però vedere, me lo deve consentire, questa fotografia che ha girato molto sui social, nel quale c'è lei in un circolo del PD, sotto le foto di Togliatti, Gramsci, Di Vittorio e Matteotti. Si potrebbe dire, io fui quinto fra con tanto senno, casini. A chi si sente più vicino? Hanno escluso le foto che c'erano in quella sala, di Kennedy e di Moro. Detto questo, guardi, penso un fatto. La campagna elettorale è lineare come mai. Noi abbiamo un centro-destra che non è più attrazione Forza Italia, ma è attrazione leghista. E questa Lega non è la Lega di Bossi, che nell'antifascismo aveva nel suo DNA, ma è la Lega che a livello europeo stacola le penne. Abbiamo i 5 Stelle, tutto il resto non esiste. Se noi vogliamo bloccare i leghisti e i 5 Stelle, dobbiamo rafforzare una coalizione di moderati e progressisti che esiste nel Paese e che ha governato bene questa Italia. Punto e basta. Dopodiché capisco gli scherzi, ma io accetto volentieri, mi sono divertito con Renzi, mi diverto io, prendo in giro io quando vado nelle sedi del PD scherzando. Ma sì, perché una cosa è vera, casini, è una persona ironica e molto autoironica. Però le dico, le faccio... Le do un consiglio, rifidate di quei politici che si prendono troppo sul serio. Va bene, ma dice in generale delle persone che si prendono troppo sul serio, dai. Allora, però una cosa seria, gliela voglio dire. Vasco Errani stamane su Il Fatto Quotidiano la chiama in causa perché dice c'è un disagio vero che non è risolvibile con richiamo al voto contro i barbari alle porte, che è proprio quello che lei sta facendo ora. Sì, ma vediamo il 5 mazzo. Chi siamo, dove andiamo, il punto è un altro. Cioè, dice, è inutile fare soltanto appello contro. Dobbiamo dire noi, candidati, chi siamo e dove vogliamo andare. Cosa risponde a Errani? Beh, anzitutto io Errani lo rispetto, con Bersani addirittura ho contribuito a fare un governo, quello Monti, per cui il problema non è tra me, Bersani, Errani, D'Alema. Il voto a loro aiuta 5 Stelle e la Lega. Loro sono a disagio per questo. In particolare, anche dopo le parole di Prodi, quello che appare chiaro a questo popolo, che è il loro popolo, è che il voto a liberi uguali, è un voto che aiuta nei collegi 5 Stelle e la Lega. Il resto sono chiacchiere. Capisco che loro debbano giustificarsi di questo. Capisco che la rottura di questo partito democratico in cui loro militavano oggi crea loro disagi, fa parte del gioco della politica. Ma i termini della questione sono questi. Molti di questi amici, che rispetto, ripeto, hanno sempre cercato di fare le alleanze con i moderati. Oggi debbono demonizzare questa alleanza perché, chiusi nel loro antirenzismo, finiscono per favorire coloro che dovrebbero combattere. Capisco, è una posizione scomoda. Quindi Prodi lei l'ha sentito, perché Prodi la voterà. Ma io non vado mica a fare l'analisi del sangue a Prodi, io rispetto quello che ha detto Prodi. Era una domanda che le facevo, lei è il candidato di Prodi. Le faccio sentire D'Alema allora, dai. D'Alema che ricorre anche lui alla categoria dell'amico, però ovviamente sappiamo anche del suo antirenzismo. Ha parlato proprio di Prodi e dell'eventualità di votare Casini nel suo collegio. Sentite che cosa ha detto da Radio Capita. Non si può votare Gentiloni. La legge elettorale, che Prodi ritiene scandalosa, e sono d'accordo con lui, e che Gentiloni ha imposto con 8 voti di fiducia, la legge elettorale prevede che ci sia il PD e il capo del PD. È previsto dalla legge questo. Si chiama Matteo Renzi. E la legge elettorale prevede che votando la lista insieme, che non raggiungerà il 3%, il voto viene dato a Renzi. Quindi vorrei dire a Romano, con grande amicizia, che dicendo che lui voterà insieme e Gentiloni, in realtà voterà per Casini e per Renzi, senza neppure confessarlo a se stesso. Casini, anche Berlusconi qui in questo studio si è detto sorpreso di vederla con l'alleato con la sinistra. E lei si è sorpreso di vedere Berlusconi ancora in sella, saldamente in sella, si potrebbe dire? No, perché Berlusconi da questo punto di vista è il campione del mondo, è uno che non molla. Quello che mi dispiace è vedere la Lega fare la parte del Leone in quell'alleanza e a volte cercare di rendere Berlusconi un comprimario. Ma io Berlusconi l'ho lasciato più di dieci anni fa, non condividevo un'idea di governo che si era realizzata, sono stato all'opposizione di tutto il governo Berlusconi nella legislatura che è andata dal 2008 al 2013, per cui io Berlusconi come persona lo rispetto, la loro alleanza la ritengo pericolosa perché è guidata dalla Lega. Vorrei dire che D'Alema per fortuna non ce l'ha solo con me, ce l'ha con Renzi, ce l'ha con Gentiloni, Prodi lo chiama amico ma dissente della scelta di Prodi. Credo che dovrebbe un po' riflettere sul fatto che tutte le persone con cui ha lavorato oggi la pensano diversamente da lui, ma io rispetto pure D'Alema e ripeto e dico che i voti a Leu sono i voti a Lega e a 5 Stelle. Questa è la verità inoppugnabile. Tutto il resto fa parte delle chiacchiere di campagna elettorale, peraltro capisco anche che questi amici polemizzino con me perché io sono il candidato di una coalizione a loro avversa per cui con chi dovrebbero polemizzare. Senta, le faccio vedere Crozza che però porta un tema molto importante, la 10, no? La 10, la 10. Allora, la 10, andiamo a recuperarla. Io me la sono un po' persa, Serena, devo dire la verità. No, 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 gli antifascisti, la numero 10. Ah, gli antifascisti, quindi l'ultimo Crozza, quello di ieri sera che scimmiotta, come fa di solito ormai da qualche settimana, il nuovo Silvio Berlusconi moderato proprio sul tema dell'antifascismo. Ha detto il problema è un certo antifascismo in Italia. Sentite. Devo dire che in questo paese il problema è l'antifascismo. Ha già detto ieri un certo antifascismo, ha detto ieri. Ieri ha detto un certo antifascismo. Cioè, stai correggendo Crozza invece di correggere ieri Berlusconi? No, no, no. C'è una testa di rapa tua. L'ho corretto anche ieri. No, perché? Ma intanto, scusi, io sono venuto qua ieri sera. Sì, sei venuto anche ieri sera. Cosa voleva dire? Io? Eh, sì, lei. Cosa voleva dire? Allora, io, perché, cara, sagace, Raffaella Carrà, io volevo dire che questo paese i tempi bui li ha creati proprio l'antifascismo. L'antifascismo che poi, portato allo stremo, ha generato quel grande freno a mano che è la Costituzione italiana. Ma che sta dicendo? Un freno alla Costituzione? Sì, certo, insieme alla Guardia di Finanza. Cosa sta dicendo? Mi scusi, volevo dire antimafia. Vai! Arrivo! Però Casini rideva. Senta, ma vede anche lei un pericolo neofascista nel paese? Ma io vedo nel mondo un negazionismo che sta aumentando. Sono fiero da Presidente della Camera di aver concorso a fare una legge che era quella della giornata della memoria, della giornata anche delle foibe, perché la storia dobbiamo ricordarla per quella che è stata ai nostri figli. Noi abbiamo un negazionismo a livello internazionale che sta avanzando, che è molto preoccupante. Per cui in questo contesto noi non vediamo solo la semina quotidiana di paura che sta facendo 5 Stelle e la Lega. Io vedo Salvini, Salvini gira andando dietro tutte le disgrazie dell'Italia e cercando di amplificarle. Per cui succede qualcosa, inietta veleno per iniettare ancora più paura nella gente. Esattamente l'opposto di quello che un politico responsabile dovrebbe fare. Però alla destra di Salvini c'è qualcosa di ancora più pericoloso. C'è Casa Pound, ci sono altre forze di estrema destra che sul tema del fascismo, non dico sono ambigue di più, per cui c'è questo pericolo e credo che questo non può essere un elemento divisivo in campagna elettorale. Pensa anche lei come Boldrini, mi auguro che anche non finisca, perché mi stava dicendo una cosa che mi interessa. No, no, non ho capito, non ho capito quello che hai detto. Finisca, no, finisca e poi le faccio un'altra domanda. No, avevo finito. Rispetto a Berlusconi, secondo lei è troppo ambiguo. Mi auguro, dico, che anche le forze moderate, fuori dal centro-sinistra, ma moderate e serie sul tema dell'antifascismo, non mettano in discorso quello che è un valore costituente della nostra Repubblica. Secondo lei Berlusconi è stato un po' timido su questo tema? Io non ho sentito Berlusconi, sono in campagna elettorale, ho sentito Crozza adesso, per cui non giudico su Crozza evidentemente. Va bene, allora, il tema no, perché Berlusconi ha detto proprio che è colpa di un certo antifascismo. Certo, c'è un tema, l'antifascismo non può mai giustificare i violenti. Se in nome dell'antifascismo si giustifica il fatto che dei gruppi violenti vogliono occupare le piazze magari concesse a comissi politici, questo non ha niente a che fare con l'antifascismo, questa è prevaricazione. Lo ha detto bene il sindaco di Bologna, Merola, criticando duramente gli episodi che ci sono stati nella nostra città. È d'accordo con Boldrini che chiede di sciogliere i gruppi di ispirazione neofascista? Pensa sia possibile? Ma noi abbiamo dei principi costituzionali e delle leggi, non siamo né io né la Boldrini che devono applicare, devono applicarli i magistrati. Caso De Luca, mi dica solo una battuta, cosa ne pensa? Beh, cosa ne pensa? Bisognerebbe, per dare giudizi sul piano politico di questioni giudiziarie bisognerebbe conoscere gli atti, se no si chiacchiera, si blattera, si fa campagna elettorale. Io sono una persona seria, non sono in condizione di pensare nulla, perché ho letto i titoli dei giornali su queste cose e dovremmo incominciare un po' tutti sui temi delicati come questi a non blatterare a secondo del titolo del giornale. La ringrazio Presidente Casini, le auguro una buona campagna elettorale a tutti. Mi torno da... Da...